ragazzi attivate la campanella iscrivetevi al canale e via con la sigla vi aspetto per la SISNO 8 e poi formiamo un team ok ragazzi oggi alle ore 22 vi aspetto con la live che si terrà per l'evento della SISNO 8 con Naruto, Naruto forse non si sa ma chissà nel frattempo iscrivetevi e attivate la campanella e lasciate tanti live grazie a tutti